Sì, è stata lei la prima a posare gli occhi sul corpo nudo di Dio, e l'ha avvolta immediatamente con lo sguardo, prima ancora di avvolgerlo in fasce. Anzi, l'ha coperto subito nei panni, quasi per comprimere la luce di quel corpo e non rimanerne accecata. Eccolo lì, l'atteso delle genti lambito dagli occhi di Maria, come agnello tremante sfiorato dalla lingua materna. I patriarchi ne avevano spiato l'arrivo fin dai secoli remoti, ma pur rinarcando i sopraccigli canuti non ebbero la gioia di vederlo. I profeti, con vaticini carichi di mistero, ne avevano disegnato il volto, ma i loro occhi si erano chiusi senza poterlo fissare da vicino. I poveri avevano provato mille soprassalti a ogni stornire di notizie, ma si dovettero accontentare ogni volta di inseguirlo nei sogni. Nelle notti d'inverno i pastori, al crepitare del bivacco, parlavano di colui che sarebbe venuto, e i loro occhi, mentre si allenavano a sostenere la fiamma dei sarmenti, luccicavano di febbre. Nelle sere di primavera, dense di presaggi, i padri editavano ai figli le stelle del firmamento, e li cullavano con le cadenze di antiche leggie. O se tu squarciassi i cieli o scendessi! Poi chiudevano le palpebre anche loro, stanchi di scrutare. Le fanciulle ebree, profumate di gerani e di desideri, si confidavano l'un l'altra, ingenui presentimenti di arcane maternità. Ma nel lampeggiare delle pupille balenava subito la malinconia delocissima di chi non verrà mai esaudito. Occhi di vegliardi e di bambini, occhi di esuri e di oppressi, occhi di sofferenti e di sognatori. Quanti occhi protesi verso di lui, anelanti la vista del suo volto, delusi per ritardi imprevisti, stanchi per lunghe vigili, fiammeggianti per subitani e speranze, chiusi sottoterra per sempre, dopo l'ultima struggente invocazione, ostende faciem tuam. Ed eccolo finalmente lì, l'Emanuele, bagnato dalle lacrime della puerpera che scintillano come gemme al guizzare della lanterna. Gli occhi di Maria tremano d'amore sul corpo di Gesù. Nella loro profondità si riaccende una lunga catena di sguardi nei sauditi del passato. Nelle sue pupille si concentra la trepidazione di attese secolari e nell'iride le si destano all'improvviso fuochi sopiti sotto le ceneri del tempo. Maria diventa così la donna del primo sguardo. Solo una creatura come lei, d'altra parte, poteva dare degnamente il benvenuto sulla terra al figlio di Dio, accarezzandolo con occhi trasparenti di santità. Dopo di lei avranno il privilegio di vederlo tanti altri. Lo vedrà Giuseppe, lo vedranno i pastori, più tardi lo vedrà Simeone, che se ne morirà in pace perché i suoi occhi hanno potuto contemplare la salvezza di Dio. Ma la prima a fasciarlo con la tiepida trama del suo sguardo nella notte profumata di muschio e di stalla perché il fieno non lo pungesse e il freddo non lo raggelasse fu lei, donna del primo sguardo, prescelta cioè dai secoli eterni per essere, dopo una foresta di attese, riviera limpidissima bagnata dal fiume della grazia. Santa Maria, donna del primo sguardo, donaci la grazia dello stupore. Il mondo ci ha rubato la capacità di trasalire. Non c'è rapimento negli occhi, siamo stanchi di aguzzare la vista perché non ci sono più arrivi in programma. L'anima è riarsa come il greto di un torrente senza acqua. Le falde profonde della meraviglia si sono prosciugate. Vittime della noia conduciamo una vita arida di estasi. Ci sfilano sotto gli occhi solo cose già viste, come sequenze di un film ripetute più volte. Ci sfugge l'ora in cui il primo acino d'uva rosseggia tra i pampini. Viviamo stagioni senza primizie di vendemmia. Anzi, sappiamo già quale sapore ogni frutto racchiude sotto la corteccia. Tu che hai provato le sorprese di Dio restituisci, ti preghiamo, il gusto delle esperienze che salvano e non risparmiarci la gioia degli incontri decisivi che abbiano il sapore della prima volta. Santa Maria, donna del primo sguardo, donaci la grazia della tenerezza. Le tue palpebre quella notte sfiorarono l'agnello deposto ai tuoi piedi con un tiepido brivido d'ala. Le nostre, invece, si poggiano sulle cose pesanti come pietre. Passano sulla pelle, ruvide come stracci di bottega. Feriscono i volti come lame di rasoio. I tuoi occhi vestirono di carità il figlio di Dio. I nostri, invece, spogliano con cupidigi ai figli dell'uomo. Al primo contatto delle tue pupille, con la sorgente della luce, si illuminarono gli sguardi delle generazioni passate. Quando, invece, spalanchiamo noi le nostre orbite, contaminiamo anche le cose più sante e spegniamo gli sguardi delle generazioni future. Tu che hai portato sempre negli occhi incontaminati i riverbili della trasparenza di Dio. Aiutaci perché possiamo sperimentare tutta la verità delle parole di Gesù. La lucerna del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è chiaro, tutto il tuo corpo sarà nella luce. Santa Maria, donna del primo sguardo, grazie perché curva su quel bambino ci rappresenti tutti. Tu sei la prima creatura ad aver contemplato la carne di Dio fatto uomo e noi vogliamo affacciarci alla finestra degli occhi tuoi per fruire con te di questa primizia. Ma sei anche la prima creatura della terra che Dio ha visto con i suoi occhi di carne e noi vogliamo aggrapparci alle tue vesti per spartire con te questo privilegio. Grazie, impareggiabile amica dei nostri Natali, speranza delle nostre solitudini, conforto dei nostri geli di presepi senza cori di angeli e senza schiere di pastori. Perdonaci se i nostri sguardi sono protesi altrove, se inseguiamo altri volti, se corriamo dietro ad altre sembianze. Ma tu sai che nel fondo dell'anima c'è rimasta la nostalgia di quello sguardo, anzi di quegli sguardi del tuo e del suo. E allora un'occhiata, daccela pure a noi, Madre di misericordia, soprattutto quando sperimentiamo che a volerci bene non ci sei rimasta che tu.